oggi finalmente sono riuscito a portare l'acqua nei nuovi pollai dalla dorsale principale del vecchio pollaio mi sono attaccato ho fatto una piccola diramazione e con un tio ho fatto altre due diramazioni una al pollaio principale che è questa e altre due le ho portate ai pollai secondari uno che verrà usato per l'allevamento di una sola razza e successivamente ho allungato occupazione e l'ho portata al pollaio che viene utilizzato per l'ulseri e per quando le galline vanno in cova per non essere disturbate dalle altre compagne e la cannella eccola qua bene ciao